Buonasera, sono Micera Luciano, presidente dell'associazione culturale e musicale Don Pizzicati. Questa sera ci esibiremo in piazza Leporano. Allora, Don Pizzicati è un progetto che nasce all'incirca cinque anni fa. Tutti si domandano perché Don Pizzicati. Prendiamo questo nome da un brano degli officini a Zoe, Don Pizzica, che per noi rappresenta il giusto compromesso tra l'innovazione e la tradizione della pizzica. Bisogna sempre conservare le tradizioni, ma esprimerle in una musicalità un po' diversa, un po' moderna. Proprio per questo c'è qui il direttore artistico, il maestro Massimo Santoro, che si occupa della direzione artistica e della musica del gruppo. Sì, solo due parole per dire che in realtà il nostro progetto è nato con lo scopo di dare a questo genere musicale, quello della musica popolare, un tocco diverso, un tocco riarrangiando i brani della tradizione in maniera più arricchita, se vogliamo usare questo termine, con arrangiamenti ben curati, dettagliati e non nella solita maniera tradizionale, cercando appunto di trovare il giusto compromesso tra la tradizione e l'innovazione. Questo devo dire grazie a tutti i componenti del gruppo che mi hanno seguito e ancora continuano a seguirci noi in questo cammino, che spero sarà sempre più prospero. Grazie, buonasera. Allora, noi tra poco iniziamo. Mi raccomando, non mancate.